Siamo al Cimitero Monumentale del Verano e come ogni anno, nel periodo dei morti, si riprendono le passeggiate tra i ricordi. Un'iniziativa che ormai è diventata una tradizione, un'abitudine per tanti romani, che è nata ormai quasi 20 anni fa, in cui in realtà si vuole mostrare il cimitero per quello che veramente è, cioè un museo della memoria, un museo di ricordi e di storie, che spesso sono le storie collettive, che sono le storie in realtà anche che studiamo sui libri di storia, ma sono intessute delle tante storie individuali, delle persone. Un cimitero monumentale come il Verano, che è poi tra l'altro il cimitero monumentale più grande d'Italia, è chiaramente un tesoro, un tesoro effettivamente non solo di memorie, ma anche di arte e di cultura, veramente generazioni di architetti, generazioni di artisti hanno lavorato qui e quindi per noi è quasi facile poter passare da uno stile all'altro, da una storia all'altra, da un racconto storico-artistico, un racconto letterario, facendo pochi passi. E' effettivamente in questo una miniera che noi abbiamo pensato di valorizzare attraverso dei percorsi tematici, i poeti, l'arte del Novecento, la memoria di chi ha fatto l'Italia, alle mie spalle c'è appunto Mameli, che è un punto fermo di vari dei nostri percorsi. Ormai questi percorsi sono diventati 15 e vengono arricchiti continuamente da eventi, da particolari adattamenti in corrispondenza di un omaggio a un personaggio, quindi Monica Vitti e Alberto Sordi, per dirne solo alcuni. Il cimitero del Verano è un cimitero che andrebbe consapevolmente musealizzato, cioè le sue ricchezze non sono delle ricchezze per le quali noi non dobbiamo far nulla, noi dobbiamo effettivamente attivarci per conservarle, come già si sta facendo in alcuni cimiteri importanti fuori d'Italia, e quindi noi continuiamo a lanciare un appello, perché effettivamente tutti noi dobbiamo concorrere alla conservazione di questo bene, che è anche una proprietà dei singoli, non dimentichiamolo.